Ragazzi, ci siamo. C'è stata una trattativa che è rimasta sopita, è rimasta nascosta, è rimasta all'interno dei contesti di mercato per tanto tempo, ma ora è saltata fuori. Ieri è stata data in realtà l'ufficialità. Bruno Fernandes sarà un nuovo calciatore del Manchester United per la cifra mostruosa di 80 milioni di euro. E tutto questo vuol dire solo una cosa. C'è un indizio enorme per quanto riguarda la situazione Pogba. Vuol dire che Pogba lascerà al 99% lo United. Ne abbiamo già parlato molte volte, ho già risposto tante volte alle domande che mi avete fatto su Instagram. Ho detto, ragazzi, non vi preoccupate perché non so se Pogba arriverà alla Juve, ma noi un tentativo per il francese lo faremo. Cercheremo di portare di nuovo Pogba in bianconero. Cercheremo di assicurare le prestazioni di Pogba, di portarcelo dentro la nostra squadra, di aumentare la qualità centrocampo. Molti mi hanno scritto e mi hanno detto, Matt, ma io ho sentito che la priorità non è più Pogba, ma è diventato Tonali. Ragazzi, Tonali è un nome molto importante per il calciomercato della Juve, ma non è la priorità centrocampo. La priorità è prendere un centrocampista di fama internazionale che abbia già un buon bagaglio di esperienza sulle spalle. Di conseguenza il nome di Pogba è quello più gettonato e l'acquisto del portoghese Fernandes potrebbe voler dire molto. Nonostante questo, molti si sono espressi a proposito della vicenda dicendo, Matt, ma Pogba non è detto che vada per forza alla Juve. Potrebbe andare anche a Real Madrid, al Barcellona. Ci sono squadre interessate a Pogba di grande elevatura. Vero ragazzi, ma vorrei ricordarvi delle cose. Innanzitutto il Barcellona per ora ha chiuso le porte a Pogba, semplicemente perché si ritiene coperta, ritiene che stia a posto, che sia totalmente normale. Il Barcellona ha giocatori come Arthur a centrocampo che stanno cercando di far crescere in tutti i modi, hanno preso un giocatore come De Jong, hanno ancora buschezza. Le porte sono chiuse per uno come Pogba, perché c'è un equilibrio ben statico all'interno di quel centrocampo. Idem a Real Madrid, dove il terzetto Casemiro-Modric cross ormai, ragazzi, è intoccabile da molto, 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 per molti, molti, molti motivi e da molto, da molto. Quindi, ragazzi, ma soprattutto per molti motivi, perché comunque avete visto le qualità che hanno quei tre. Ma oltre a tutto questo, il Real Madrid ha preso anche un altro giocatore, che verrà ufficializzato a giugno, e si tratta di Van de Beek dall'Ajax, un giocatore straordinario, secondo me, una mezzala moderna, che può fare veramente molto, ragazzi, a in blanco, quindi con la maglia di Real Madrid, ma se tu prendi già una mezzala con il grande centrocampo che ha Real Madrid, tendo ad escludere che il Real possa riandare su Pogba. Insomma, la strada che porta Pogba alla Juve sembra sempre un po' più spianata del solito, perché le dirette concorrenti non sembrano più fare tentativi da questo punto di vista, e quindi rimangono un po' in ombra. Il Barcellona per un motivo, lo United per un altro. Ci sarebbero Paris Saint-Germain, ci sarebbe anzi, perché stavo pensando a un'altra squadra, ma è veramente molto, molto difficile che il Bayern Monaco faccia ovviamente un tentativo, perché il Bayern, lo sapete, ha una politica aziendale completamente diversa da quelle squadre che ho nominato, ma c'è l'interessamento del Paris Saint-Germain, che però, secondo me, non attrae Rayola né Pogba a livello di blasone. Diciamo che sicuramente a livello economico potrebbero dire la loro, perché Pogba sicuramente potrebbe essere preso e gli potrebbe venire dato uno stipendio, anche quello che richiede lui, ma sicuramente parliamo di un affare diverso. Secondo me la volontà di Pogba è quella di riabbracciare l'ambiente Juventus, un ambiente in cui, sappiamo, si espresse, secondo me, in maniera straordinaria, seguendo comunque determinate cose dette dagli allenatori, prima da Conte e poi da Allegri. Chissà se Pogba, io non so se Pogba voglia effettivamente fare dei sacrifici per la Juventus oppure no, perché se Pogba vuol venire alla Juventus, evidentemente deve fare dei sacrifici a livello di ingaggio, a meno che non ci sia una partecipazione esterna di uno sponsor, di qualcosa che vada a pagare parzialmente quell'ingaggio, perché francamente non credo che la Juve si metta in casa un giocatore che costa più di 20 milioni di euro a stagione andando così a scalzare dal podio degli ingaggi gente come quelle che abbiamo, cioè gente come Delita, ad esempio, che viene pagato tantissimo di bala, non vengono pagati comunque come Pogba. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate.